Cambia passo la marcia del Comitato Promotore per la Costituzione della Banca Popolare di Prato. Il 29 agosto, a meno di un anno e mezzo dalla presentazione alla città dell'idea di ridarle una banca con il suo nome, è stata inviata a Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la documentazione per avere il via libera alla raccolta del capitale sociale. Siamo in pista e entro un paio di mesi Consob dovrebbe dare il via procedere alla raccolta. Quindi cominciamo a raccogliere soldi per costituire la banca della nostra città. Quota minima 2.500 euro, massima equivalente all'1% del capitale sociale, quindi tra 100 e 150 mila euro. Tempo un anno e mezzo più o meno e si potrà aprire il conto corrente alla Banca Popolare di Prato, che promette di fare la banca senza speculazioni ma puntando all'interesse di famiglie e imprese. Non a caso l'obiettivo dichiarato sin dall'inizio, da quando cioè l'idea di ridare una banca del territorio a Prato era più che un sogno, è di investire qui fino all'ultimo centesimo raccolto. Una speranza per tutti noi, per le nostre famiglie e le nostre imprese. Un contributo importante che cercherà di portare fiducia nella città, quindi aiutare le famiglie e gli imprenditori. Il Comitato Promotore, ne fanno parte una cinquantina tra imprenditori, liberi professionisti, docenti, impiegati e pensionati e potrebbe ulteriormente allargarsi con i nuovi ingressi, annuncia che la Popolare di Prato sarà una banca 3.0. Una banca 3.0 è un progetto che abbiamo iniziato noi in Italia. Utilizzeremo tutte le tecnologie a disposizione del settore per ridurre i costi e agevolare tutte le operazioni di banca che oggigiorno conosciamo. Inoltre 3.0 perché la nostra banca tornerà a parlare direttamente con le persone. Nessuno nella banca di Prato sarà un mero contocorrente, ma sarà una persona, in quanto tale sarà ascoltata e consigliata.